Al Grande Fratello gli inquilini hanno dato il loro benvenuto al nuovo concorrente Alfonso D'Apice, l'ex fidanzato di Federica, arrivata nel reality solo la scorsa settimana. Alfonso dopo essersi presentato agli inquilini ha abbracciato subito Federica. La geffina sembra essere felice per l'ingresso dell'ex fidanzato al Grande Fratello. È un piacere, ha detto la ventenne. Ma il pubblico non sembrava convinto dalla sua affermazione. Federica sembra, in ogni caso, convinta della sua scelta e pare non voglia dare ad Alfonso una nuova possibilità, io ti ho lasciato per i problemi che c'erano tra di noi, perché non ero felice e non mi sentivo libera, ha ribadito la ragazza durante il confronto. I due si sono ripetuti più volte di tenere l'un l'altro, ma da parte di Federica sembra ci sia solo un bene immenso. E per un nuovo inquilino, c'è l'addio di un altro concorrente. Stiamo parlando di Tommaso Franchi, che in settimana volerà in Spagna per entrare momentaneamente al Gran Hermano, dove incontrerà nuovamente Maika. Nel corso di queste ultime settimane, il rapporto tra il concorrente e Maria Vittoria è stato molto intenso e i due hanno deciso di lasciar spazio alle emozioni e, mettendo da parte le preoccupazioni, si sono avvicinati sempre di più. Dopo aver indagato sull'evoluzione del loro rapporto, Alfonso decide di raccontare a tutti quanto accaduto nel corso dei giorni precedenti. Tommaso ha avuto la possibilità di collegarsi con il Gran Hermano per parlare con Maika. Avendo notato molto feeling tra i due, il conduttore ha chiesto, «Ma ti piace Maika?» e Tommaso ha risposto con un secco no, confessando di provare interesse per Maria Vittoria. Arrivato il freeze, Alfonso Signorini ha annunciato l'arrivo di due ospiti d'eccezione, due ballerine di flamenco, che raggiungono il salone e portano via Tommaso. Tommaso, stai andando in Spagna. Ciao, le parole di Alfonso. E sotto gli occhi increduli di tutti i presenti, il concorrente abbandona la casa. E voi cosa ne pensate?